Ed è positivo il bilancio della programmazione natalizia di Christmas Tales, lo ha tracciato Daniela Di Bari, assessora alla bellezza del comune di Andrea. Abbiamo animato la città avendone cura e avvicinandoci alle persone, ha detto. Ascoltiamo. Installazione a tema, spettacoli teatrali, percorsi turistici, il presepe vivente, eventi musicali, di danza e letteratura, hanno caratterizzato il fitto calendario di appuntamenti di Christmas Tales, che fino al 9 gennaio stanno vestendo a festa la città di Andrea e rendendo più magico il periodo natalizio. A pochi giorni dalla conclusione, l'assessora alla bellezza del comune di Andrea, Daniela Di Bari, traccia il bilancio. Intanto è positivo perché abbiamo praticamente ragionato su abitare diversi luoghi della città, con diverse attenzioni e con diversi appuntamenti, tra danza, canto, teatro, artisti di strada. Ecco, questo ha permesso di animare la città con piccoli tratti, con piccole attenzioni, avendone cura, avendone cura nei passaggi vicino alle persone, stando accanto alle persone, di modo che la festa e l'incontro appunto vada incontro alle persone.